Passano con 82,20 voti e vanno all'Areston di Sanremo I... I... Come si chiama? 20... 20... 20... La band agrigentina 20 Questions calcherà lo stesso palco che ha visto esibirsi Liga V e Carmen Consoli, i Blue Vertigo e Elite FIBA per citarne alcuni Si aggiudica la finale regionale del contest musicale Sanremo Rock e sta che lascia passare per la finalissima nazionale che si svolgerà a giugno al Teatro Ariston della Città dei Fiori I cinque musicisti, Fabio Quelli alla voce chitarra, Antonio in Bergamo alla batteria, Ettore Braggio al basso, Riccardo Mattina alla chitarra e Stefano Casolino alle tastiere al synth hanno convinto la giuria che le ha volute alla finale che si terrà nella città ligule di Sanremo La prima selezione è avvenuta per la verità online tramite i video delle nostre un po' esibizioni o dei video registrati in studio e tramite quelli ci hanno selezionato per la finale regionale siciliana che è avvenuta il 12 aprile alla Cicantello nella quale abbiamo portato il nostro inedito che si titola Bianco e Torno e fortunatamente è andato tutto bene in quanto abbiamo vinto e accediamo direttamente all'Ariston alla finale nazionale che avverrà il 4-5-6 di giugno all'Ariston appunto di Sanremo e per poi eventualmente speriamo accedere alla finalissima del giorno 7 quindi ci darà un ulteriore scrematura il 4-5-6 giugno Sanremo Rock è una grandissima ormai manifestazione collaterale ovviamente a quella più famosa di Sanremo nazionale però ha una buona importanza è ovviamente più incentrata sul campo del rock che il nostro genere noi siamo molto soddisfatti, molto contenti e non vediamo loro che arrivi questo 4 giugno per poterle suonare nel famosissimo palco nazionale nata come cover band 20 questions ha convinto la giuria e avanza nel contest musicale con un suo inedito dal titolo Bianco e Torno il libro si intitola Bianco intorno ed è ispirato al romanzo di Alessandro Pico Oceano Mare il libro si intitola Bianco intorno ed è ispirato al romanzo di Alessandro Pico Oceano Mare dei suoi personaggi, soprattutto due, Madame de Vera e i suoi tradimenti e inizia il tutto con Blaston, questo pittore che cerca di dipingere l'orizzonte con l'acqua di mare rimanendo la tela bianca, il titolo Bianco intorno i 20 questions nascono nel 2017 ad Agrigento da un'idea del bassista Ettore Braggio che ha coinvolto gli altri musicisti nel progetto la band nasce nel 2017 da un'idea di Ettore Braggio che è una sola propria dove passano tantissimi musicisti e da lì siamo passati anche io e il batterista Antonio in Bergamo legati anche da un'amicizia da diversi anni Ettore ci chiede di fare una band noi tre e subito dopo teniamo gli altri due ragazzi che ha avuto Stefano Casudino e Riccardo Martina che suonavano da anni progetti collaterali quindi erano molto accettati tra di loro ed è nata questa band quasi per caso ma ci siamo ritrovati immediatamente subito molto amici e molto confatti e con la stessa mentalità e con le stesse idee diciamo ci siamo ritrovati immediatamente ed è nata e sono come già da nascere i primi brani tra cui questo noi portiamo a Sanremo e Sanremo Rock in cui crediamo tantissimo a breve faremo il video, realizzeremo il video a qualche volta la gente ad un giro in effetti non può sentire il brano perché non gioca da nessuna parte il nostro sound deriva dalla cultura british perché noi infatti con la cover band lasciamo con la cover band di brit rock perché a noi piace quel genere al di là della lingua perché la lingua noi adoriamo la lingua italiana e scriviamo l'italiano quindi i nostri brani sono l'italiano però lasciamo con la cover band di british rock perché è quello del genere che ci piace e le nostre sonorità si ispirano assolutamente a quello con qualche influente italiana sempre di gruppi comunque nel campo alternative diciamo italiano quindi non solo sul sonico giusto per citarne un paio Durante le finali di Sanremo Rock giunto alla 32esima edizione i 20 questions che hanno passato le fasi regionali e gli altri finalisti selezionati si faranno notare ad esperti del settore e addetti ai lavori del panorama musicale La sonora di Sanremo intanto già è una bellissima vetrina di presentazione comunque sicuramente perché comunque le tradizioni sono a livello nazionale quindi sono diciamo le band ritenute dalla manifestazione sono ovviamente più valide a livello nazionale quindi già è una bella vetrina accedere alle parti nazionali e vince Sanremo ovviamente sarebbe oltre una vetrina ulteriore dalla possibilità alla band di aprire grossi concetti italiani e non anche in giro per l'Europa è un contratto discografico quindi con la registrazione di un album con un'etichetta però già accedere là diciamo questa possibilità volendolo potrebbe dare perché comunque a parte la giuria ovviamente è una manifestazione che raccoglie molti produttori e molta gente diciamo tecnicamente molto avanti esperti di musica che raccoglie tutti